Sei il sindaco di Milano, sei stato eletto con oltre il 57% dei voti, hai lobby del ciclismo, hai deciso di combattere l'inquinamento e la Volvo ha recentemente regalato a te o alla tua amministrazione un veicolo elettrico. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Come avrete sicuramente intuito, oggi parliamo di Area B, e cioè di quel provvedimento preso dal sindaco di Milano che formalmente limita ma sostanzialmente nega l'accesso alla città da parte dei veicoli prodotti non proprio in tempi recenti. E nota tutti che l'Italia e Milano hanno qualche problemino di inquinamento e in particolare hanno qualche problema con i livelli di biossido d'azoto. E la Corte Europea qualche mese fa ci ha sanzionati proprio per questo motivo. Il sindaco Sala e la sua maggioranza sono rimasti sconvolti da questo fatto e hanno deciso di applicare una soluzione semplicissima per risolvere un problema estremamente complesso. Dato che in maggioranza siamo tutti ricchi ciclisti e ci regalano pure le macchine elettriche, perché non vietiamo ai poveracci di girare con i loro mezzi inquinanti? E poi a sostegno di questa tesi ci sono anche i mirabolanti risultati ottenuti dall'Area C. Per chi non fosse della zona segnalo infatti che nel centro di Milano i veicoli più vecchi non possono accedere e quelli più recenti devono pagare un obolo. Obolo che naturalmente è a carico soltanto dei non residenti. Il sindaco Sala sostanzialmente può entrare e uscire dal centro senza spendere un centesimo. Se invece sei un idraulico che deve sostituire il rubinetto del sindaco o ti porti il borsone a tracolla nel caso in cui il tuo veicolo sia piuttosto vecchiotto o in alternativa se il tuo veicolo è abbastanza recente oltre al parcheggio paghi pure l'ingresso. Questa teoria di evidente ispirazione neoliberista secondo il sindaco Sala e la sua maggioranza ha funzionato perché i livelli di PM10 dopo l'introduzione dell'Area C sono andati costantemente diminuendo. In realtà i grafici sembrano dire una cosa completamente diversa. Infatti il trend era al ribasso anche prima dell'istituzione dell'Area C e la riduzione delle emissioni è tutt'altro che marcata. Se non fosse presente quella linea rossa a fare da spartiacque fra il prima area C e il dopo area C non sapreste dove e quando quest'area C sarebbe entrata in vigore. Verosimilmente l'abbassamento delle emissioni è dovuto principalmente al fatto che chi vive o lavora in centro è in condizione di cambiare l'automobile abbastanza frequentemente e nell'arco di 5 o 10 anni quasi tutti i cittadini con entrate medio-alte sono soliti cambiare il proprio parcomezzi. Si pensi per esempio all'avvocato che per motivi di immagine deve assolutamente avere lo studio in San Babila e una Porsche nel garage oppure alla persona normale la quale dopo 10 anni decide di cambiare un veicolo per risparmiare sulle spese di manutenzione e non avere scocciature. Secondo Sala invece il merito della riduzione dell'inquinamento consiste nel fatto che il comune di Milano ti bastona ogni volta che devi entrare in centro e dato che secondo Sala questo bastone ha funzionato alla perfezione il passo successivo nella sua mentalità consiste nel bastonare tutti quelli che a Milano ci devono entrare. Motivo per cui dal primo ottobre 2022 nel caso in cui tu non abbia a disposizione un veicolo a benzina di classe superiore all'euro 2 oppure diesel di classe superiore all'euro 5 per il trasporto privato o euro 4 per lavoro non puoi più accedere dove si trova il 97 per cento della popolazione milanese e al 70 per cento del territorio cittadino. Naturalmente il sindaco Sala e la sua maggioranza nella loro magnanimità ti permetteranno solo per quest'anno 50 ingressi in deroga e 25 dal settembre 2023 ma solo se sei residente a Milano se vieni da fuori gli ingressi in deroga dal secondo anno saranno solo 5 tanto se hai un'auto così vecchia sicuramente non puoi permetterti di fare acquisti nei negozi di Milano e tra l'altra mente tu a Milano non ci voti quindi qual è il problema per Sala se tu vieni lasciato fuori e peraltro tu sei in buona compagnia perché secondo il sole 24 ore sono 483 mila i veicoli slash persone che non possono più accedere liberamente a Milano. Per dovere di completezza devo anche segnalarti che una volta esauriti i 50 accessi in deroga di quest'anno potrai percorrere qualche chilometro in più installando al modico costo di 50 euro l'unità Movin ovvero una scatola nera gestita se non vado errato dalla regione Lombardia. Questo chilometraggio può tornarti utile ed essere determinante se devi recarti a Milano una volta ogni tanto viceversa se tu a Milano ci lavori e devi necessariamente portarti appresso il tuo furgoncino perché devi trasportare materiali e attrezzature il chilometraggio extra servirà soltanto a posticipare il problema di qualche mese al massimo. Ma anche qui il sindaco Sala e la sua giunta non hanno risolto alcun problema se tu entravi a Milano una volta ogni tanto lo facevi già prima dell'istituzione della zona B. L'unica differenza sta nel fatto che è la scocciatura di dover installare il Movin. Ora intendiamoci la battaglia contro l'inquinamento è giusta, sacrosanta e necessaria ma il fine non può giustificare i mezzi soprattutto quando i mezzi sono palesemente inadeguati a raggiungere il fine. Il sindaco Sala e la sua maggioranza hanno pensato di risolvere il problema inquinamento in modo molto banale limitandosi a inserire un divieto. Devi lavorare a Milano e non puoi permetterti un furgone nuovo? Chiudi la tua partita IVA e vivi di reddito di cittadinanza finché resterà. Sei un turnista che deve prendere servizio in una fascia oraria in cui il trasporto pubblico non è operativo? Avresti dovuto comprarti l'auto nuova invece di mandare tuo figlio all'università. E naturalmente quest'obbligo vale solo per te che sei un cittadino qualsiasi. I 350 autobus diesel Euro 1, Euro 2 o Euro 3 del comune di Milano restano in servizio per otto ore al giorno facendo avanti e indietro senza alcun problema. E la stessa regola si applica naturalmente alle auto dei poliziotti che ti dovranno fermare per darti prima la multa e poi sospenderti la patente nel caso in cui la tua auto sia esattamente come la loro. Naturalmente come comune di Milano nell'ultimo anno a causa del covid non hai dato alcun incentivo per migliorare il parco auto e altrettanto naturalmente non ti sei degnato di migliorare neanche i parcheggi. Hai deciso di mettere fuori legge 483 mila veicoli ma non hai pensato che qualche decina di migliaia di veicoli nella migliore delle ipotesi si fermerà al limite fra la tua bippissima zona B e il resto dell'universo. Motivo per cui anche chi fa già un uso responsabile del proprio veicolo ed è solito arrivare ai limiti di Milano per poi prendere i mezzi pubblici non troverà più parcheggio e dovrà girare come un imbecille inquinante qualsiasi per ore e ore. Ora naturalmente non intendo offendere nessuno perché nel centro-sinistra soprattutto ai piani bassi fra virgolette c'è tantissima brava gente che stimo e rispetto. Ma la mentalità che ha preso piede ormai da anni in quest'area politica è letteralmente odiosa e inadeguata. Non puoi pensare di risolvere problemi complessi come l'inquinamento facendo leva soltanto sui divieti e a spese delle persone più deboli e più fragili. Non puoi imbellettarti la faccia in nome dei diritti e di un mondo migliore e poi lasciare al proprio destino 480.000 persone. E' come se tu volessi combattere la povertà a Milano allontanando tutti i poveri dalla città. Siamo di fronte a un centro-sinistra che per risolvere un problema ambientale nel proprio orticello non si cura minimamente delle conseguenze sociali. Siamo quindi di fronte a un centro-sinistra che di centro-sinistra ha sì il nome ma non la sostanza. In ogni caso questo problema come si può risolvere? Il primo passo per risolvere il problema consiste nel comprendere che questa situazione non riguarda solo ed esclusivamente Milano ma riguarda tutta l'area metropolitana e la regione Lombardia. Lunedì si terrà infatti il consiglio metropolitano dove le opposizioni e cioè Forza Italia, La Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto al sindaco Sala di sospendere questa iniziativa unilaterale. In particolar modo vi segnalo l'attività di un giovane consigliere metropolitano Alessandro De Vito che ci mette proprio l'anima in quello che fa e cerca di migliorare il mondo in cui vive. Nel caso specifico si è fatto portatore delle esigenze sociali ma anche economiche delle 483 mila persone che saranno sicuramente penalizzate dal provvedimento del sindaco Sala. Ovviamente Alessandro non è l'unico a combattere questa battaglia, direi che in questo caso è in buona slash ottima compagnia ma io ricordo principalmente lui perché è sempre disponibile ad ascoltare le istanze dei vari territori ed è sempre disponibile a dare una mano agli altri, cosa che non è così scontata in politica al giorno d'oggi. Per quanto riguarda il comune di Abbiategrasso anch'io e tutti gli altri consiglieri di maggioranza abbiamo deciso di fare squadra, come è fisiologico che sia, e proporre una mozione per rafforzare l'attività del sindaco e della giunta in tal senso. In pratica all'unisono chiederemo di sospendere quest'area B. Iniziative del genere, anche più colorite della nostra, sono state intraprese anche da tutti i comuni del milanese. Sesto San Giovanni addirittura sta proponendo l'istituzione di un'area S per far pagare l'accesso in città ai milanesi e rendere pan per focaccia. Io resto dell'idea che i problemi seri vadano affrontati seriamente e facendo squadra. In primo luogo devi riconoscere il fatto che chi usa l'auto la usa perché è costretto, non perché si diverte. Similmente devi riconoscere il fatto che chi usa un'auto o un furgone vecchio lo fa perché non può cambiarlo. E non certo perché è un nemico giurato di Captain Planet, per cui se vuoi ridurre il livello di inquinamento devi intervenire seguendo varie strategie. Una prima strategia può essere quella di identificare o realizzare dei parcheggi di interscambio ai limiti della città e potenziare il servizio pubblico. Se sono infatti un turnista devi mettermi in condizione di raggiungere il posto di lavoro senza utilizzare l'auto. Organizzami un pulmino a chiamata, un taxi a prezzo calmierato, affittami un'auto elettrica a prezzo calmierato. Non saranno grandissime soluzioni ma di certo possono aiutare. Poi migliorami il servizio pubblico, mettimi in condizione di arrivare con i mezzi pubblici invece di dover utilizzare il mio veicolo. Svecchia i mezzi pubblici, non è possibile che ci siano 350 autobus inquinanti che vanno avanti e indietro per 8-10 ore al giorno. Fai squadra con altri sindaci e presidente di regione per stipulare qualche convenzione con le società che producono e soprattutto commercializzano automobili e furgoncini. Invece di farti regalare una Volvo fai un accordo che permetta ai piccoli artigiani che devono usare necessariamente il proprio furgoncino per lavorare di poterlo rinnovare. E la stessa regola naturalmente deve valere anche per le imprese un pochino più grandi che hanno 3, 4, 5, 10 mezzi e non è chiaramente pensabile di farli anticipare qualche centinaio di migliaia di euro in un periodo economico di questo tipo qui. Insomma le soluzioni al problema dell'inquinamento esistono, possiamo e dobbiamo trovarle ma per farlo dobbiamo partire dal presupposto che siamo tutti abitanti dello stesso pianeta, della stessa regione e che dobbiamo fare squadra fra di noi. Soprattutto dobbiamo partire dal presupposto che la soluzione non può essere un semplice divieto e che non è assolutamente accettabile lasciare indietro i cittadini più fragili e vulnerabili. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando un messaggio qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video li seguite ma per qualche strana ragione non vi siete iscritti, non avete attivato la campanella e così non venite informati sulle nuove uscite, non condividete i video e non mettete neanche i like, fatelo. Oppure i vostri vicini di casa potrebbero nominare il sindaco Sala quale caposcala del vostro condominio. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto!